Come si combatte, sulla base di quello che ha detto Berlusconi, con dei competitors che pagano il costo del lavoro 2 euro l'ora? È un problema serio, a cui non posso rispondere così con una battuta, è un problema molto serio. Io ho fatto la stessa domanda anche a qualche economista che era qui presente, sì mi danno delle risposte che però poi in pratica, con la giustizia che abbiamo in Italia, con la burocrazia che abbiamo in Italia, il debito pubblico che va bene si può interpretare anche in diverse forme. Io le chiedo scusa, ha perfettamente ragione ma non sono in grado di dargli una risposta.